Se vuoi conoscere i libri di cui parla questo video, clicca sull'icona che trovi a sinistra dello schermo, visualizza i prodotti e si aprirà il menu sempre aggiornato. Buonasera, bentrovati. Come sempre l'antroposofia ringrazia la libreria Gavur per la preziosissima ospitalità. Dunque oggi siamo chiamati a fare un piccolo salto nel vuoto, come si può dire. Cioè l'argomento che continua l'approfondimento sulla questione dei punti, però si aprirà a delle dimensioni, a delle evoluzioni veramente molto molto lontane dal comune pensare, dalla comune concezione della vita. Si può tranquillamente usare, come faceva Rudolf Stein spesso, il termine mistero perché, per quanto noi ci si possa arrabbattare, sono temi immensi. D'altra parte questa conferenza inaugura il nono anno di attività di questo seminario e per cui è legittimo osare tanto. Più che mai tutto quello che dirò sarà parola di Rudolf Steiner. I rarissimi casi in cui necessario sapete specifico che si tratta di farina del mio sacco. Rudolf Steiner ha insistito molto sulla necessità che i mondi spirituali vengano conosciuti in dettaglio. Lui attribuiva a questo un'importanza fondamentale e del resto in tutta la sua opera. Anche nelle discipline interiori che consiglia, suggerisce, sempre i dettagli sono curatissimi. Ma lui va oltre e dice che se almeno un buon gruppo di antroposofi sterrà conto di questa necessità, aumenterà di molto la probabilità che da questo declino apparentemente inarrestabile possa nascere una qualche luce. Se l'ha detto cent'anni fa direi che oggi questa luce è più che mai indispensabile. C'è anche qualcos'altro ad aggiungere in proposito. Abbiamo sempre detto quello che sempre dice lui, cioè che è decisivo non arrivare nell'aldilà come degli ignoranti. a prendere qui il più possibile è un grandissimo aiuto nell'aldilà. Dice proprio tanto qui vi familiarizzate con il mondo dello spirito, altrettanto bene vi troverete dall'altra parte. E a questo scopo i dettagli sono eccezionali, sono indispensabili, perché solo approfondendo i dettagli si esce dalla sfera meramente intellettuale e si entra in quelle sfere che sopravvivono alla morte. Come prima cosa devo correggere un piccolo refuso dell'ultima conferenza. Nella terza preghiera, quella dedicata ai defunti da oltre vent'anni, per un proprio uno sbaglio di copia incolla, qui è uscita poi la parola conseguenze, va sostituita con configurazioni, perché è una traduzione più corretta. Allora nell'ultima delle tre preghiere la parola conseguenze va sostituita con configurazioni. Ecco tutto qua. Nessuna colpa della tipografia, quelli sono precisissimi. Ora, chi ha seguito bene l'ultima conferenza si ricorderà che sostanzialmente ci siamo fermati al momento della morte. Ora, ogni morte fisica è una nascita spirituale. Rudolf Stein dice che se un chiaroveggente contempla un cimitero di notte, vede proprio queste nascite che si alzano dalle tombe. Ma il concetto stesso di cadavere lo possiamo ampliare. Devo fare una premessa che abbiamo trattato nelle conferenze passate, chi le ha seguite ricorderà quando. Noi abbiamo la coscienza e tutta l'attività spirituale grazie alle forze distruttive. quelle costruttive ci tengono in vita, ma non ci danno la coscienza. Abbiamo fatto sempre l'esempio di quel povero disgraziato del pugile Primo Carnera, che era una montagna di forze costruttive e poco prima di morire qualcuno calcolò che aveva sia no l'intelligenza di un bambino di terza elementare. La massa corporea era stato un enorme ostacolo allo sviluppo della spiritualità. Questo poi, brutalmente parlando, si traduce nel fatto che possiamo pensare distruggendo centinaia di migliaia di neuroni. Per fortuna ne abbiamo più di 80 miliardi. Quindi, vita spirituale, autocoscienza, uguale distruzione. Questa distruzione, naturalmente, si localizza anche, e non tanto nelle forze del sistema nervoso, del sistema circolatorio, ma in quelle del ricambio. Ora, quando si muore, questo processo il cadavere se lo porta dietro. Si porta dietro l'imprinting delle forze distruttive del defunto e le trasmette alla Terra. E come noi pensiamo, grazie alle forze distruttive, così fa la Terra. La Terra può pensare perché riceve questo imprinting, questa eredità, dai cadaveri dei defunti. Naturalmente la qualità si intuisce. Persona molto evoluta, molto spiritualizzata, trasmetterà qualcosa di molto potente, un pensiero molto forte alla Terra. Vedete, siamo già in questa dimensione dell'incredibile, del mistero. La Terra pensa grazie ai cadaveri degli esseri umani. Non solo. Abbiamo detto che dopo i famosi tre giorni del panorama sintetico di tutta la vita trascorsa, che si verificano subito dopo la morte, tre, quattro giorni più o meno, tutti i pensieri che abbiamo per tre giorni e mezzo contemplato intorno a noi senza distinzione di tempo, cioè coesistenti, ci lasciano e se ne vanno nello spazio. Sono pensieri di natura eterica, perché il pensiero nasce nel cervello eterico e prende coscienza riflettendosi in quello fisico. Ad ecco la necessità. Noi paghiamo l'autocoscienza con la malattia e la morte. Ora, tutto questo patrimonio eterico non va perduto, perché a parte una sintesi che ci accompagna poi per tutto il viaggio dell'aldilà, queste forze eteriche raggiungono la sfera solare, poi distingueremo al momento giusto tra sfere e orbite, ancora una volta, e nutre la sorgente delle forze eteriche che tiene in vita il mondo vegetale sulla Terra. Quindi la Terra pensa grazie ai cadaveri umani. Il mondo vegetale, grazie alle forze eteriche che noi liberiamo, il nostro corpo eterico, dopo tre giorni, tre giorni e mezzo della morte. E questo ci dà un'idea della complessità immensa con cui è costruito il mondo in cui viviamo. Allora, a questo punto qualcuno si domanderà, ma il defunto, a questo punto, di che cosa consiste? Viene subito avvolto dai tre corpi superiori che noi abbiamo permanentemente. Abbiamo spiegato molte volte che l'essere umano è un setticlavio, si divide in sette strutture, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, io che si articola nelle tre anime, senziente, irrazionale e cosciente, e poi sé spirituale, spirito vitale, uomo spirito, che sono le tre dimensioni che dovremo raggiungere in futuro. Ma sono già presenti in fieri come potenziali sviluppi che ci attendono. Queste avvolgono immediatamente il defunto che però nella sua pelle autentica, possiamo dire questo, sostanzialmente ha un involucro di moralità, di forze morali. Qui le forze morali sono forze, nell'aldilà sono sostanze, sono sostanze spirituali, come qui il pensiero è un'attività, è una dinamica e di là è una sostanza. Il cosiddetto paradiso, il devashan, è fatto esclusivamente di sostanza pensiero. Quando sarà il momento ci arriveremo e approfondiremo. Dunque, subisce comunque un trauma non indifferente con la morte, anche questo dipendendo dal livello spirituale a cui è arrivato in vita. Per l'iniziato la morte non esiste, vive da quando è iniziato nei due mondi, semplicemente esposta la targhetta sull'indirizzo della porta, ecco, nient'altro che questo. E poi c'è tutta la sfumatura dei gradi precedenti. E l'io si risveglia di fronte allo spettacolo della morte di cui abbiamo parlato l'ultima volta. Questo spettacolo grandioso, per cui l'io prende coscienza che lo spirito vince sempre sulla materia, è del suo posto nell'universo. E si porta questa esperienza per tutto il viaggio nell'aldilà fino alla rincarnazione, come base dell'autocoscienza che si svilupperà nell'aldilà. Il corpo astrale invece si risveglia in un altro modo, per la pressione di tutti i pensieri eterici che nei tre giorni di cui abbiamo parlato si accumulano intorno a lui. Questa pressione lo risveglia dopo la morte. Non bisogna dimenticare che i pensieri, dall'altra parte, corrispondono a entità elementari, quindi una massa notevole. Sono i pensieri di tutta una vita. Ecco, la prima esperienza però che il defunto fa, qualunque sia stato il suo livello, è che la vita nell'aldilà gli sembra subito molto più reale di quella che si è trascorsa. Noi sappiamo benissimo, per esempio, che tra la vita di veglia e il sogno, ognuno di noi sogna anche se dice no, ma tutti sognano, c'è una bella differenza. Ci possono essere anche dei sogni molto vivaci, ma noi sappiamo benissimo che la vita di veglia è qualcosa di molto più importante, molto più cosciente, molto più presente e molto più definibile. Sappiamo benissimo che c'è una bella differenza tra la veglia e il sogno. Ecco, il defunto fa la stessa esperienza nell'aldilà. Quando la fa, la vita che è appena conclusa gli sembra un sogno e ha l'espressione esatta di essere adesso nella vera vita e questo sentimento poi si allarga, si allarga, si allarga e sostanzialmente corrisponde all'allargamento della sua coscienza. Fa un'altra esperienza, diciamo così, abbastanza decisiva anche questa, sono tutte decisive naturalmente, ma queste sono le fondamentali iniziali e in che cosa consiste questa esperienza? Che purtroppo, è un'esperienza che devo definire con purtroppo, quando dopo i tre giorni la grande massa dei nostri pensieri ci lascia, in realtà ci ha lasciato la nostra vita di veglia. Perché quello che facciamo da quando acquistiamo coscienza intorno al terzo o quarto anno, fino al momento della morte o perlomeno fino al momento in cui la coscienza la conserviamo, si può morire anche avendola ridotta molto. Tutto questo l'abbiamo pensato comunque sia successo, sia stato un evento esteriore o un evento nostro interiore, è diventato cosciente perché si è manifestato attraverso un pensiero. Quindi tutti questi pensieri che si accalcano nel post-mortem per poi lasciarci andare ad alimentare le forze eteriche del mondo vegetale sul sole, costituiscono la nostra vita di veglia, praticamente la vita che si è conclusa. E l'io li vede proprio che si allontanano a lui, che lo abbandonano e si disperdono nel cosmo e questo corrisponde purtroppo a un terrore indescrivibile con parole umane. Questo terrore è noto da sempre. Noi se esaminiamo qualunque, ma proprio qualunque cultura sulla terra, ci sono ricorrenze che vengono sottolineate e altre no, ma il funerale c'è dovunque. Non mi è mai capitato di imbattermi in una cultura che non avesse un rito d'accompagnamento del defunto nel distacco. Perché il vero significato del funerale è questo. La conferenza precedente si chiamava il distacco della terra. Ecco, il funerale accompagna il defunto nel distacco. Perché questa uniformità, universalità? Perché nei mondi superiori, dall'altra parte, c'è una corrispondente cerimonia che si chiama cerimonia d'accoglimento. E ancora entriamo in quel prologo iniziale del quasi incredibile. Si verifica sempre quando muore qualcuno. Quando le due concidono e sono tutte e due di un buon livello, il risultato è eccezionale. Questa cerimonia serve proprio ad attutire questo terrore piuttosto forte. Ma da quando l'uomo ha acquistato l'io, e noi lo facciamo risalire a un percorso che è cominciato sostanzialmente in Atlantide, pur essendo stato predisposto nella Lemuria, ma ha raggiunto il suo apice con l'inizio dell'epoca moderna, XV secolo, lungo diverse tappe come l'incarnazione del Cristo, il IX secolo, eccetera, eccetera, abbiamo parlato in conferenze passate, da quando c'è l'io la faccenda è più, in un certo senso, complicata. Perché quando l'uomo non ce l'aveva l'io non aveva nemmeno sta grande paura. Cioè non c'era un io che temesse di disperdersi nel cosmo. L'azione del logos era presente anche allora, però era più che sufficiente senza nessuna partecipazione del defunto. Da quando l'io invece è diventato la guida delle nostre vite, questa azione automatica non è più sufficiente. L'io, l'individuo deve aver trovato, sto parlando sempre della civiltà occidentale, deve aver trovato questo raccorto col Cristo che proprio lo aiuta a superare questo momento difficilissimo. Non ci dimentichiamo la frase un po' abusata in queste conferenze che Omero mette in bocca d'Achille, meglio un giorno da mendicante sulla terra che un secolo da imperatore dall'altra parte, o più o meno. Perché? È perché il greco antico temeva molto questo distacco dal corpo fisico come smarrimento della coscienza. Greco antico, pre-cristiano, evidentemente. Non ci dimentichiamo nemmeno che il Cristo ha per amore la sua prima azione e la svolge nel mondo dei defunti per tre giorni. Rudolf Steiner dice che va a rimettere al suo posto Arimane. E Arimane è la più grande minaccia per la nostra coscienza. Quindi ecco perché noi abbiamo l'altra volta sottolineato molto questo che è il punto centrale del mantra, potremmo dire, culto cristiano per eccellenza. In Cristo Morimor. Questa è un'esortazione. Perché tutto il cammino nell'aldilà risente di questo momento molto difficile e di come si supera. Naturalmente noi non siamo soli. Abbiamo un angelo che ci accompagna. Sul mongelo custode c'è una confusione formidabile in giro. Lo vedo dalle mail di persone che mi chiedono continuamente preghiere per l'angelo custode. Evidentemente si sentono necessario essere protetti. Ma l'angelo custode svolge un'azione eccezionale nel bambino, evidentemente. E lì tutte le preghiere per i bambini e per l'angelo custode vanno tutte bene. Staremmo freschi se ci volessero delle formule sofisticate. Ma no. Qualunque implorazione fa il bambino al suo angelo va benissimo. Poi svolge un'azione strepitosa nel momento della morte, dopo questa cerimonia di accoglimento, fino alla rincarnazione. E' lui che guida l'anima da una rincarnazione all'altra. O perlomeno l'accompagna e media verso le altre gerarchie, in primis verso il Cristo. Quindi vedete che la funzione dell'angelo custode è immensa. Però bisogna anche intenderla. Durante la vita dell'adulto, la cosa più importante che fa sono quelle tre azioni giornaliere che abbiamo descritto in una conferenza particolarmente e che si ritrovano in una bellissima pubblicazione dell'Antroposofica. Si intitola proprio Cosa fa l'angelo nel corpo astrale? Importantissima perché se l'uomo vive in modo che l'angelo non lo possa fare, questo lavoro diurno, è costretto a farlo la notte, le conseguenze sono gravi. Abbiamo descritto anche questo. Quindi per l'adulto, questo è il momento centrale. La vera preghiera che l'adulto dovrebbe rivolgere all'angelo custode risente oppure dovrebbe essere mirata ad un altro compito dell'angelo custode, che è quello di prendere il meglio di quello che noi facciamo qui ed evitare che si disperda. Cioè praticamente trasportarlo nelle sfere spirituali. Quindi la meditazione, perché si tratta di una meditazione, in questo caso è questa. O mio spirito protettore, accogli questa mia azione come una radice e da essa fa derivare frutti. Per esempio, questa conferenza, da parte mia, si presterebbe benissimo, si presta infatti, a questa meditazione per l'angelo, che possa diventare una radice e da essa derivare frutti. Questa è l'impostazione più proficua verso questa figura che è veramente molto preziosa. e l'angelo dunque il suo lavoro lo fa. Dipende da come noi ci comportiamo e il livello a cui lo può fare. Qui addirittura si è creata una scrematura che a noi umani può sembrare quasi inverosimile, ma si è creata. L'angelo custode di un vero antroposofo, quindi non parliamo di turbe sterminate, diciamo così, una pattuglia d'élite, si evolve lui stesso molto più veloce di un angelo che non sia angelo di un antroposofo, perché vivendo nella sfera del pensare acquisisce una quantità di conoscenze che quando attraversava il grado umano sulla Luna nella precedente incarnazione della Terra non erano disponibili. Quindi l'angelo custode di un antroposofo autentico, devoto, viaggia molto velocemente e si è creata veramente una frattura tra questa pattuglia sparuta e gli altri. Noi sappiamo benissimo che ce l'hanno raccontato le metodologie greche e nel mondo spirituale è fatto anche di parecchie, parecchie fratturine più o meno gravi. Le gerarchie non sono sempre basti pensare a Lucifero, l'angelo ribelle, e ci sono angeli ribelli, ci sono gerarchie ribelli a tutti i gradi, arcaia, rispetti della forma, eccetera. Quindi l'angelo di un antroposofo vero lo può aiutare molto di più sia durante la vita che nell'aldilà. Ora, mi sono arrivate delle lettere quando ho sottolineato un vero dispiacere per questa circostanza che il defunto può entrare in contatto nell'aldilà ovviamente con anime soltanto di coloro defunti che ha già conosciuto sulla Terra. Qualcuno ha detto che questo è inverosimile. Sì, l'ho detto all'inizio che entravamo in una serie di argomenti che appaiono sicuramente e giustificatamente inverosimili alla nostra mentalità ordinaria. Però è esattamente così. Non bisogna dimenticare, ho citato alcune volte, Massimo Scaliggio diceva che dall'altra parte come dice il croupier quando è partita la pallina. Cioè, tutto il destino umano si decide qui, nella vita fisica sulla Terra. Nell'aldilà si rielabora, si fruttifica, si matura, ma non si può nemmeno correggere. Adesso spiegheremo meglio. Quindi, questo vale anche nei confronti di questo problema. Se qualcuno non l'avete conosciuto qui, non è entrato nel vostro destino. ci sono due correttivi. Il primo, però, non si verifica tanto presto. Bisogna essere piuttosto addentrati verso i mondi spirituali. Adesso lo descriveremo. Perché nella fase post-mortem siamo nel Kamaloga, ancora mondo astrale. Non siamo nel Devashan. A un certo punto, se si entra in contatto con un'anima che è legata molto ad un'altra, si può entrare in contatto gradualmente anche con l'altra. Cioè, se A conosce molto bene B e B conosce molto bene C, anche se A non conosce C, prima o poi lo conoscerà. Sì, lo gisma aristotelico. Se A è uguale a B e B è uguale a C, A sarà uguale anche lui a C. Un'altra piccola consolazione, mettiamola così, mi è stato scritto che come mai non si può leggere antroposofia a chi non si è conosciuto sulla Terra? Dunque, si può leggere a chiunque si sia conosciuto anche se non si è mai interessato di antroposofia. Molto spesso è una presa di posizione veramente terrina che deriva da tante cose e appena la persona poi arriva nell'aldilà la cerca proprio l'antroposofia perché è una verità in fondo a tutte le anime della civiltà occidentale perlomeno. C'è un'eccezione. Un gruppo antroposofico veramente affiatato può tentare di leggere antroposofia a una persona sconosciuta che gli venga segnalata ispirandosi alla sua scrittura cioè avendo di fronte a sé un pezzo di carta in cui il defunto ha tracciato dei pensieri ha scritto non fotocopio proprio il pezzo originale questo corrisponde a una verità che ho visto piuttosto confusa nel mondo antroposofico anche chi dice di essere in contatto con l'aldilà maestri di meditazione lasciamo per si fa mandare le fotografie no la fotografia serve a noi per mantenere il ricordo lo slancio verso il defunto ma non per collegarci per collegarci a quello che funziona veramente è la scrittura originaria sono sicuro che molti hanno fatto l'esperienza rimettendo a posto un vecchio baule esce fuori una lettera di una persona a noi carissima di cui non sapevamo niente l'emozione nel leggere è straordinaria non solo per quello che si è scritto ma perché si sviluppa subito questo contatto se uno vuole veramente sentire un'emozione verso un defunto prenda qualcosa scritto da lui sono certo che succederà non ho il minimo dubbio ecco quindi un gruppo antroposofico dico guardate se è molto affiatato e anche qui insomma non si tratta di turbe esterminate può tentare questa via ora ci sono delle particolarità con cui si verificano gli incontri nell'aldilà noi ci rincarniamo a gruppi con ruoli diversi ma a gruppi magari uno in una vita il fratello nella vita successiva sarà la moglie in una vita il maestro nella vita successiva sarà il discepolo ci incarniamo a gruppi può sembrare incredibile sempre gli stessi gruppi questo che significa per esempio che quando abbiamo detto che ci possiamo contattare con defunti solo che abbiamo conosciuti sulla terra ma non solo nell'ultima incarnazione in tutte le incarnazioni e ormai a questo punto il ciclo delle incarnazioni lo possiamo far risalire al periodo di Atlantide quindi quelle prima non le possiamo considerare vere e piene incarnazioni ma da Atlantide in poi ne abbiamo fatte di incarnazioni quindi la limitazione c'è con quell'eccezione successiva dell'ABC però è una limitazione che prevede un vasto numero di persone conosciute che si rincarnano sempre insieme e non si incontrano voglio dire che se un gruppo si è rincarnato nel quarto sesto secolo e ventesimo secolo quarto scusate undicesimo secolo e non so diciottesimo secolo e un altro nel quinto nell'ottavo e nel diciannovesimo non si incontreranno mai sulla terra mai nei mondi spirituali sì perché lì si sta molto tempo e ci si incontra questo comporta delle caratteristiche di attività ultramondana particolari perché è perché il stesso gruppo tende a costruire un karma collettivo ci sono debiti e crediti tra tutti quanti e si lavora insieme in modo che l'incarnazione successiva permetta di pareggiare tutti questi conti la risultante di tutto questo è che questi gruppi di per sé costituiscono mondi noi quando parliamo dell'aldilà diciamo sempre mondi spirituali ecco i mondi costituiti dai defunti sono una parte importante cominciano a essere così tante queste anime che costituiscono mondi a sé ecco per esempio Leibniz con il suo concetto della monada individuale qui sarebbe a nozze proprio perché nel mondo spirituale sono autentiche monadi il suo concetto si applica benissimo a quello che sto dicendo conseguentemente si pone subito un problema che è quello del numero ma il numero nei mondi spirituali non esiste sostanzialmente non come lo identifichiamo noi lì tutto è un'unità nella distinzione questo cosa significa noi qui ci incontriamo ci salutiamo ci diamo la mano ci può essere un rapporto strettissimo tra coniugi ma il rapporto che c'è tra due anime che si incontrano nell'aldilà è la compenetrazione assoluta cioè una entra dentro l'altra mantenendo assolutamente la sua coscienza distinta la sua individualità e tutta la monade tutti i partecipanti alla monade fanno lo stesso praticamente una monade è un'unità una unità nella distinzione anche qui vedete il prologo iniziale era giustificato perché per noi è molto difficile afferrare questo concetto ci aiuta un po' il telefonino se ci fosse qui un milione di telefonini quando arriva il segnale risponde solo quello a cui corrisponde il numero però è una metafora mia naturalmente un pochino mi vergogno ma per dare l'idea questo ha anche degli effetti nei rapporti tra i defunti e i superstiti perché io non me la sento di chiamare loro morti e noi vivi perché vedremo presto che sono più vivi di noi sperimentano subito che la vita nell'aldilà è più reale di questa qui sulla terra il defunto per entrare in contatto con qualcuno anche se l'ha conosciuto sulla terra si deve attivare molto noi qui prima abbiamo un'immagine di una persona e poi la cominciamo a conoscere di là prima si presenta tutto questo patrimonio che noi chiamiamo conoscenza il defunto deve ricostruire l'immagine anche qui vedete il prologo è seccato ed è un lavoro molto faticoso invece l'immagine l'essenza l'anima di un caro lasciato sulla terra si presenta da sola naturalmente se 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 il superstite ha conservato un sentimento almeno di affetto forte per il defunto che non ce l'ha avuto in vita non ce l'avrà manco dopo la morte no ma se ce l'ha avuto ogni volta che si rivolge al defunto proprio si presenta davanti senza che lui debba fare nulla e questo per il defunto è un grandissimo aiuto un risparmio enorme di forze poi naturalmente tutto si impara con l'esercizio anche questo incontro con le anime nell'aldilà comincia a diventare più facile il defunto impara prima a risvegliare l'immagine ma sempre ci deve lavorare questo concetto poi lo approfondiamo ora non si deve pensare che il defunto sia completamente impegnato solo in questa sua vita di relazione intima assolutamente no il defunto svolge un lavoro verso l'esterno superiore a quello che svolgerà mai sulla terra dopo la morte dopo il distacco dei tre giorni la prima realtà che si incontra non sono le anime dei trapassati possono essere le anime dei congiunti rimasti sulla terra questo si ma non dei trapassati il primo mondo che si incontra è il mondo delle anime di gruppo degli animali questo non deve stupire perché abbiamo spiegato in una conferenza specifica che l'essere umano è l'unico che ha i quattro corpi tutti in sé sulla terra non c'è nessuna forma vivente nel cosmo che possa vivere senza i quattro corpi fisico eterico astrale io non è possibile l'essere umano ha questa superiorità se vogliamo chiamarlo così di avercele tutti e quattro qui nel fisico perché per esempio il minerale il cristallo nel fisico c'ha soltanto il corpo fisico cioè il corpo minerale il corpo eterico ce l'ha nel mondo astrale il corpo astrale ce l'ha nel devasian inferiore e l'io nel devasian superiore il mondo vegetale un po' meglio nel suo fisico c'è il corpo fisico il corpo eterico infatti cresce e si riproduce che sono le due caratteristiche vive cresce e si riproduce nel mondo eterico il mondo animale è ancora meglio nel fisico l'abbiamo detto c'è il fisico l'eterico e l'astrale e l'uomo ce l'ha tutti e quattro quindi l'animale ha il fisico l'eterico l'astrale qui e l'io nel mondo astrale cioè il mondo in cui entra il defunto dopo i tre giorni quindi è inevitabile questo incontro non con i singoli animali so che questo piacerebbe a tutti quelli che perdono un animale e mi scrivono se lo ritroveranno un dolore tremendo sperimentato da me mi piacerebbe molto ogni volta avrei avuto molto che fosse così ma no l'animale torna all'anima di gruppo e ci porta tutte le esperienze che un buon padrone gli ha fatto fare oppure un padrone cattivo e incontra che cosa il defunto le anime di gruppo degli animali cioè gli io degli animali che vivono nel mondo astrale è un incontro importantissimo perché perché il mondo animale non potrebbe esistere senza il contributo ricevuto dai defunti nell'aldilà e ci ritrovi torniamo ancora a questo prologo sull'incredibile realtà di alcuni argomenti deve assolutamente misurarsi con l'essere umano e tutto quello che Darwin dice della selezione naturale finché si tratta di una concatenazione di evoluzioni di forme lo possiamo anche accettare quello è frutto dei defunti sono i defunti che mettono in atto la selezione naturale naturalmente andate a dire questo a un biologo andate a dirlo a uno zolo l'aspetto di zoologia che fa una risata se vi va bene non prende male il telefonino e non chiama la neuro ma come minimo vi eviterà da quel momento in poi infatti io non glielo vado mai a dire a un biologo o a uno zoolog mi informo bene prima allora questo incontro però non è soltanto transitivo cioè noi non li incontriamo solo perché il mondo animale ha bisogno di questo intervento umano è anche intransitivo cioè abbiamo detto all'inizio che il cadavere trasferisce la capacità distruttiva dell'essere umano indispensabile perché si realizza il pensiero e così la terra pensa ecco ma questa capacità distruttiva che abbiamo dentro di noi però si concretizza in una dimensione che dobbiamo assolutamente nel corso della nostra evoluzione superare noi dovremmo arrivare al punto di averla l'autocoscienza avendo completamente superato l'intervento luciferico che proprio in questo ha consistito ci ha dato la possibilità della coscienza della libertà appresso della malattia e della morte e lo studio del mondo animale è indispensabile perché dobbiamo superare il centauro ognuno di noi ce l'ha dentro di sé questo centauro cioè una parte di noi è già completamente spiritualizzata l'altra parte è ancora animalizzata ma non perché deriviamo dagli animali sono loro che derivano da noi la scimmia è un uomo mancato ma perché c'è una parte di animalità che non abbiamo ancora esternato e non abbiamo tradotto questo nel tempo è anche migliorato perché per esempio gli egiziani ammonivano in questa direzione lo hanno fatto con quel capolavoro che è la sfinge che si trova nei libri si legge sempre davanti alla piramide di Keu che è la più grande però tutte le volte io l'ho guardato sembra diretta verso Kefren la seconda ma sarà un illusione ottica e che dice la sfinge uomo guarda che hai la testa di essere umano ma il corpo è di leone il centauro rappresenta un progresso perché beh perché il cavallo rispetto all'altra forma si può considerare un animale più evoluto il cavallo è l'animale la cui nascita ha eliminato l'ostacolo allo sviluppo dell'intelligenza personale dell'uomo umero che la sapeva lunga lo stratagemma di Ulisse che è il primo uomo che ha l'intelligenza e l'astuzia sua e non si serve degli dei questa è la grandezza di Ulisse lo stratagemma lo fa col cavallo non lo fa col leone certe verità una volta erano molto più conosciute di oggi quindi questo incontro col mondo animale è fondamentale va da sé che il modo in cui uno ha trattato gli animali è rilevante molto rilevante detto questo parliamo sempre di espansione dell'anima nel defunto nell'aldilà dal punto di vista temporale e spaziale ce ne occuperemo che è un viaggio immenso noi adesso stiamo toccando poi 10 20 anni 30 anni dopo la morte dura secoli adesso sarebbe prematuro parlarne ma in realtà entro che cosa si espande si espande entro un immenso mondo eterico perché le forze eteriche riempiono tutto il cosmo questa famosa energia oscura che raggiunge per secondo anche la fisica ufficiale percentuali altissime si dice che la parte conosciuta è solo il 4% dell'universo poi c'è energia e materia oscura sarebbe nel 96 qualcosa del genere vuoti non ce ne sono mai nel cosmo c'è sempre la presenza eterica ora noi sappiamo che l'etere è la sfera in cui si sviluppa veramente il pensiero umano poi diventa autocosciente perché si riflette nel cervello il cervello è uno specchio rifinitissimo se non ci fossero specchi intorno a noi non sapremmo mai come siamo fatti se non ci fosse il cervello avremmo dei pensieri immensi ma non ne sapremmo nulla a livello della coscienza dell'io perché è il cervello che le riflette e li rende percepibili ora questo che cosa significa che la qualità dei pensieri che l'individuo ha sperimentato e coltivato durante la vita è un patrimonio essendo di origine eterica che quando dovrà vivere per decenni secoli nel mondo eterico si rivela determinante assolutamente determinante ora tutti i pensieri ordinari non hanno forza molti pensieri scientifici purtroppo nemmeno perché sono materializzati al punto tale che quasi la strangolano l'origine eterica i pensieri antroposofici sono tutti di origine eterica di altre discipline non dico chiedetelo agli esperti io posso assicurare che quelli antroposofici lo sono forniscono un materiale forniscono una consistenza eccellente per l'anima che dovrà attraversare tutti questi mondi eterici per molto molto tempo inoltre ci sono altre due caratteristiche che a una coscienza diciamo così terragna proprio terragna sembrano proprio inverosimili la prima è questa il defunto non può fare nulla ma proprio nulla senza creare gioia o sofferenza e in questo senso che cosa succede che vede le reazioni intorno a lui e impara come si deve comportare perché bisogna rendersi conto che è come qui nasciamo da una papà e una mamma e poi piano piano dobbiamo imparare proprio tutto a cominciare a camminare eccetera eccetera e di là è lo stesso non c'è niente da fare il defunto vede le azioni che provocano luci immagini ciò che rappresentano sofferenza e le altre e non le ripete si muove in questo modo inoltre c'è la più difficile forse da comprendere noi qui siamo sempre al centro e guardiamo intorno a noi la conferenza la circonferenza ecco questa è una sala che ha un bel soffitto arquato da una bella idea io sono qui e vedo questa circonferenza immaginando che fosse il cielo stellato una bella serata estiva io sono qui e vedo la circonferenza di questo mondo stellare intorno a me morire significa il contrario significa quando si dice il defunto dilata la sua coscienza si espande nel coso e si diventa sempre di più circonferenza 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 che guarda al centro quindi per esempio uno potrebbe immaginare che un defunto con questa espansione si allontani da una persona molto amata in vita no non ho detto che si trasferisce nella conferenza nella circonferenza si dilata cioè il suo essere si amplia continuamente subito dopo la morte resta nell'atmosfera della terra a lungo evidentemente se noi immaginiamo e però lo spiegheremo che ci sono anime che arrivano oltre lo zodiaco in quello che si chiamerebbe l'interspazio questa espansione nella circonferenza può essere immensa il famoso uomo cosmico il gigante Ymir delle tradizioni molto accreditate alludeva proprio a questo ora in tutto quello che abbiamo detto risulta decisivo il livello di esperienza e conoscenza spirituale che abbiamo fatto sulla terra perché nell'aldilaria in via blu quello che non avete imparato qui là non lo imparate dovete aspettare un'altra rincarnazione se il Cristo non viene trovato qui non c'è niente da fare bisogna aspettare un'altra rincarnazione sperando che le condizioni generali che non promettono molto bene lo consentiranno ancora di più il dottor Steiner dice che la sensibilità spirituale che noi sviluppiamo qui nell'aldilà diventa i nostri occhi si rimane un po' attoniti di fronte a tutto questo noi senza occhi non vediamo niente siamo proprio nell'oscurità se la sensibilità spirituale di là diventa i nostri occhi se non abbiamo sviluppato affatto ci troviamo in questa condizione che sulla terra è terribilmente penosa per me è una delle più penose poi ci sono quelli che la vivono bene piano piano imparano qualcosa anche da questo sono quelli che assumono degli atteggiamenti di superiorità bisogna lasciarli stare perché hanno ancora purtroppo molto da soffrire ma pensate che Zaratustra il grande Zaratustra non è diventato il grande Zaratustra così si è fatto un'intera vita molto lunga da non vedente perché non potendo vedere il mondo fisico ha sviluppato questa sensibilità questi occhi occulti di cui sto parlando moltissimo ed è arrivato a percepire delle sfere spirituali molto alte quindi lo sviluppo della sensibilità spirituale è veramente un argomento che qui può essere addirittura facoltativo e infatti la maggior parte degli esseri umani lo trascura completamente ma noi sappiamo che è il centro proprio di un percorso esoterico e per quanto riguarda l'antroposofia si configura essenzialmente in due gambe che sono la concentrazione e la meditazione ora della meditazione abbiamo parlato di tutte e due naturalmente l'ultima volta abbiamo parlato della meditazione della rosa croce però l'argomento va completato come al solito leggo la parola di Rudolf Steiner esattamente questo è preso dall'iniziazione antroposofica opera omnia numero 10 il discepolo non deve abbandonarsi ai sentimenti non deve avere nell'anima sentimenti indefiniti gli sarebbero di impedimento per arrivare alla vera conoscenza spirituale i suoi pensieri debbono formarsi con chiarezza e precisione a tal fine gli sarà d'aiuto non abbandonarsi ciecamente ai pensieri che sorgono in lui che è quello che succede normalmente uno li subisce i pensieri per la maggior parte del tempo deve piuttosto compenetrarsi con i pensieri elevati che uomini evoluti compenetrati di spirito avevano pensato scritti nati dalle rivelazioni provenienti dalla meditazione i ricercatori dello spirito riposero in quegli scritti i pensieri della scienza divina continua questo è da principi di etica medica edizione antroposofica o preomino 316 questo è stato opportunamente richiamato in una bella edizione recente dell'antroposofica che si intitola meditazione da uomini moderni sentiamo di dover capire ogni frase questo l'intelletto è la cifra del quinto periodo la quinta epoca post-atlantica è una tendenza tipica dell'io nell'epoca presente tutto ciò che facciamo con l'intelletto è un'attività tipica dell'io l'incarnazione attuale è dominata dall'intelletto e questa è la situazione normale invece meditare significa escludere questa tendenza dell'intelletto ed accogliere in prima stanza il contenuto meditativo così come è dato direi parola per parola queste sono le parole di Rudolf Steiner avvicinando un contenuto meditativo in modo intellettuale il contenuto resta esteriore accogliendo nella coscienza il contenuto meditativo semplicemente così come è dato semplicemente depositandolo nella coscienza non è più l'io della presente incarnazione che lavora ma quello della precedente ecco questa è un'altra di quelle verità a cui accennavo all'inizio sorprendenti come nella meditazione non lavora più l'io attuale ma quello dell'incarnazione precedente e qual è l'io dell'incarnazione è il sé spirituale ne abbiamo parlato parecchio è quella parte di noi che non va oltre il terzo quarto anno di vita e che alla fine adesso l'approfondiremo riceve i risultati di una vita e li trasferisce a quella successiva questo ha una forte attinenza con quella fase della concentrazione nella fase finale in cui bisogna cercare di contemplare sinotticamente quasi tutto quello che si è immaginato tutti i concetti che si sono formulati in serie retrograda come una fotografia e ho specificato bene allora che quel tipo di pensiero necessario alla contemplazione non è più il pensiero ordinario associativo fa riferimento al pensiero spirituale cioè a quello del sé spirituale perché tutto quello che riusciamo a trasferire nel sé spirituale è una ricchezza nell'aldilà tutto quello che rimane nell'io transitorio e se ne va col cervello finisce quando finisce la vita fisica quindi non è facile immaginare l'io della precedente incarnazione che lavora però sostanzialmente parlando l'anima l'abbiamo detto molte volte collega la parte spirituale col corpo e lo spirito che cos'è è proprio il sé spirituale perché perché è quello che sopravvive di vita in vita e si rincarna il corpo finisce o cremato o inumato e l'anima collega questi due evidentemente se l'anima è completamente succube del corpo come purtroppo è una situazione molto frequente al sé spirituale non gli arriva niente e tutto lo sforzo evolutivo di un vero cercatore spirituale è quello di spostare l'anima completamente dalla parte dell'io spirituale ma non trascurando la realtà fisica ma in modo che gliene arrivino soltanto le parti nobili alte morale utili eccetera 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 è proprio questa esigenza ora fa un esempio che chiarisce tutto si mette a tacere l'intelletto e ci si traspone semplicemente nel contenuto della parola udita interiormente e non esteriormente ci si traspone in esso e così facendo nel contenuto meditativo lavora l'uomo interiore il sé spirituale che non è quello della presente incarnazione lo sappiamo la personalità che si sviluppa in un'incarnazione è transitoria relativa a quella incarnazione se uno ha vissuto nella Firenze di Michelangelo se si rincarna oggi nella Firenze contemporanea non potrà avere certo la personalità che aveva allora la cultura la gente la scuola la famiglia gli formeranno un altro io transitorio basato sempre su quella coscienza dell'io che però è di origine sora sensibile e che abbiamo sempre detto è continuamente irradiata dal sé spirituale in tal modo il contenuto meditativo diventa qualcosa che opera realmente in noi e questo è lo scopo della meditazione l'oggetto meditato per queste modalità particolari che escludono l'intelletto e quindi l'io transitorio ha un carattere maieutico fortissimo modifica il meditante nel senso che cerca cioè dell'evoluzione spirituale in tal modo il contenuto meditativo diventa qualcosa che opera realmente in noi tanto realmente che alla fine ci si rende conto di aver sperimentato qualcosa ma hai sperimentato prima e questa è un'esperienza che sicuramente molti hanno fatto meditando qualcosa di veramente profondo alla fine dopo un lavoro regolare soprattutto si percepisce dentro di sé qualcosa che prima non c'era non c'era assolutamente prendiamo un semplice contenuto meditativo che ho dato spesso nella luce vive la saggezza certo se uno comincia a lambiccarsi sopra può cavarne cose tremendamente intelligenti ma al contempo anche molto sciocche si si mi è capitato di sentire tutte e due la frase nella luce vive la saggezza va ascoltata interiormente e in tal caso risveglia nel meditante qualcosa che non proviene dall'incarnazione attuale ma che si porta da un'esistenza precedente tutto quello che abbiamo sperimentato ce lo portiamo dietro anche se non lo ricordiamo a livello cosciente non si perde nulla qualcosa che pensa e sente e che dopo qualche tempo illumina in noi un contenuto di cui prima non si sapeva e che non può derivare dal proprio intelletto è evidente non l'abbiamo applicato interiormente si è molto più progrediti del proprio intelletto che rappresenta una piccola parte di quanto esiste certo la coscienza del sé spirituale è molto più progredita il nostro piccolo intelletto il nostro corpo astrale conosce tutta la matematica anche quella che ancora non è stata scoperta ecco vedete questo in un certo senso conclude proprio il cuore dell'attività disciplinare meditativa che comincia però con la concentrazione che già nella sua parte finale quella contemplativa attua il passaggio alla meditazione e la concentrazione è la la chiave che apre la serratura un gravissimo errore passare alla meditazione senza aver esercitato la concentrazione molto molto dell'eterio e naturalmente tutto questo che significa e significa che se uno trascura completamente la meditazione ma molto difficilmente uscirà dalla sfera dell'intelletto ma può anche diventare un erudito molto molto apprezzabile ci vogliono anche loro però se si deve attuare questa famosa signoria dell'io significa che l'anima deve fare suo spostamento verso il sé spirituale e la via diretta la medicina proprio più penetrante è questo binomio concentrazione meditazione ora abbiamo assolto anche l'ultimo dovere che ci imponeva questa importantissima sfera dell'antroposofia a questo punto qualcuno si potrebbe chiedere legittimamente abbiamo ascoltato tutto ma il defunto quando muore in realtà dopo pochi giorni della morte ma di che cosa consiste quali sono i presupposti della sua vita come opera che cosa può fare abbiamo già visto tutto quello che riguarda il mondo degli animali il defunto sostanzialmente vive nel corpo astrale che si è guadagnato durante la vita l'abbiamo appena detto se il corpo astrale in cui vive l'anima si sposta verso il sé spirituale il defunto si troverà già un vestito adatto al mondo in cui si trova se è avvenuto il contrario se è stata la dimensione fisica la dimensione dei sensi la sensualità che ha divorato l'anima tutta la vita ci troviamo in un oceano periglioso con un piccolo salvagente da bambini ora che coscienza ha il defunto dopo i famosi tre giorni beh ha una coscienza che per tutto il Kamaloka è molto vicina a quella che aveva sulla terra soprattutto gli interessi sono ancora prevalentemente quelli terreni questo si può anche capire perché comunque uno sulla terra ha già passato 60, 70, 80, 90 anni non è stato a girarsi i pollici e qui si pone un ulteriore quesito ma questa coscienza sia pure molto simile a quella terrena visto che quella terrena si basava sul riflesso della parte fisica l'abbiamo detto tante volte di cui il cervello è il centro il cervello è il centro del corpo fisico come l'io è il centro dell'anima come fa a mantenersi beh ci sono tre esigenze fondamentali la prima è questa un grande aiuto verso la conservazione della coscienza è il fatto di morire da persone morali il che è una cosa meravigliosa secondo me perché prescinde dalla cultura prescinde da ma sì anche dalle confessioni religiose prescinde un pochino anche da dallo status sociale completamente la persona che ha sviluppato moralità già ha messo un bel salvacondotto per la conservazione della sua esigenza della sua esigenza fondamentale che è quella di mantenere la coscienza perché mantenere la coscienza nei mondi spirituali significa essere un soggetto se si perde la coscienza si rischia di diventare un oggetto ma del resto è così anche qui guardate le persone pochissime veramente padrone di sé che hanno raggiunto una certa consapevolezza beh in un certo senso non dico che dominano la vita la padroneggiano ma la maggior parte delle persone è continuamente sballottata è come un turaccelo in un mare agitato è continuamente tirata da una parte e dall'altra non voglio dire che sia un oggetto perché sarebbe cinismo però beh là è ancora peggio la dimensione nella dimensione sovrasensibile la seconda importantissima esigenza per completare la prima naturalmente è invece averla acquisita una vera religiosità e con religiosità intendo il termine stretto religione significa ricollegare l'uomo al mondo spirituale anche qui la possibilità è molto vasta certo non è qualcosa attinente attinente un generico panteismo che spesso nasconde una gran pigrizia sì sì Dio sta dappertutto beh no questo avrà pochissimo potere di ricollegare ma è una forma molto libera questo ricollegamento con la divinità rappresenta un'opportunità religiosa che si può manifestare in moltissimi modi e il terzo è l'elemento decisivo assolutamente decisivo abbiamo già spiegato abbastanza perché ma qui ci dobbiamo tornare è quello che abbiamo detto qui in Cristo Morimur perché questo l'abbiamo già detto il Cristo è entrato nella sfera dei morti il Cristo è quello che quando Mosè gli chiede ma tu come ti chiami che gli devo dire al mio popolo dice digli che io sono l'io sono quindi il centro proprio dell'autocoscienza da quando si sono svolti i fatti di Palestina coincide con la possibilità dell'io transitorio sulla terra di rapportarsi col Cristo io sono sicuro che quando un giorno il Cristo sarà veramente capito non se ne parlerà più in teologia mistica filosofia se ne parlerà in fisica perché il Cristo è un elemento della nostra vita della nostra possibilità di vita e lo diventerà sempre di più e basta pensare a quanto è importante la qualità della vita tra due da due incarnazioni se lì uno riesce a portarsi dietro la coscienza ma il progresso è sicuro qui devo fare una piccola chiosa per diversi anni io ho ricevuto un buon numero di lettere di mail che molto educatamente diciamo sì lei parla del Cristo abbiamo capito però perché proprio non fa una conferenza solo una conferenza solo sul Cristo noi ci vediamo lunedì e finisce il lunedì della settimana dopo perché c'era questa per parecchi anni ho dovuto dire guardate che noi ne parliamo per quello che si può perché la cattedrale deve essere costruita secondo le leggi tipiche di questo tipo di edifici non si può mettere la croce quando siamo arrivati sia o no al secondo livello allora quando l'abbiamo raggiunto questo rustico questo livello abbiamo detto con l'ultima conferenza del seminario di base in 28 conferenze nella quale abbiamo parlato di questa cosa misteriosissima dei due bambini Gesù poi c'è stato l'anno sabbatico apposta ora nella ripresa evidentemente devo considerare si è diventato tutto il precedente e allora si vede che stiamo parlando affrontando il discorso Logos Cristo con molta profondità e in questo senso dobbiamo sempre ricordarci che un elemento che è alla base della nostra autocoscienza storicamente dimostrabile nel suo sviluppo negli ultimi duemila anni cioè dagli eventi di Palestina fino a oggi attraverso naturalmente le fasi salienti di cui abbiamo sempre parlato è il massimo elemento sovrasensibile a cui noi possiamo accedere quindi è veramente un enorme peccato che durante una vita fisica si rinunci a questo immenso supporto che è totalmente indifferente a tutte le contingenze fisiche mortali e terminali ora con questi tre elementi e soprattutto il terzo scusate il defunto può affrontare una prova durissima qual è? che avvicinandosi ai mondi spirituali si è letteralmente sommersi da un livello di coscienza travolgente la coscienza nell'aldilà è proprio la sostanza base se l'individuo non ha sviluppato una sua coscienza secondo quello che abbiamo detto finora viene travolto la deve proprio opporre non è una tenzone così riposante ha dei momenti in cui si può rinchiudere in se stesso si riprende si riposa ma poi deve per forza riaprirsi al mondo intorno a lui che è un mondo spirituale e si ripresenta questo problema quindi l'individuo che lascia questo mondo con una coscienza sovrasensibile sviluppata come abbiamo detto è sottolineato non solo da oggi ha le carte migliori per non farsi travolgere che significa non farsi travolgere significa partecipare alla propria evoluzione successiva avere voce in capitolo assimilare molto di più di una persona che attraversi l'aldilà con una coscienza stordita appena 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 irriconoscibile lo vediamo anche intorno a noi ci sono persone che hanno una prensilità immensa afferrano tutti i dettagli particolari coscienze vivissime pronte quante persone conosciamo che passano attraverso il mondo e notano solo le cose fondamentali ma poi sono dei mezzi sonnamboli il numero dei sonnamboli da sveglio oggi è altissimo altissimo e questo non soltanto per lo strabuso di alcol di altre sostanze eccetera ma poi perché questa abitudine all'osservazione attenta è anche un po' così bypassata da tutta questa tecnologia che fa un sacco di lavoro per noi insomma ci dà i prodotti già finiti che è un'ottima cosa per molti aspetti non sono contrario al progresso e non lo starò mai bisogna naturalmente sapere inforcare la motocicletta con autorità oppure salire sul cavallo con carisma e andare dove vogliamo noi dove ci vuole portare il cavallo ora il kamaloka l'abbiamo detto è il periodo di cui stiamo parlando si caratterizza come un percorso retrogrado che l'anima compie nel corpo astrale e rivive tutte le esperienze che ha fatto dormendo durante una vita per questo dura più o meno un terzo perché noi più o meno un terzo della vita perché noi dormiamo in genere un terzo della vita qual è la caratteristica fondamentale è che le esperienze vengono rivissute non come nostre esperienze ma come risultati sulle persone con le quali siamo venuti in contatto ma che vuol dire uso l'esempio del dottor steiner do una sberla uno quando nel viaggio ritroso arrivo in quel momento in cui ho dato quella sberla sperimento il dolore fisico e psichico che ha ricevuto la vittima questo se lo trasferite in una persona aggressiva non è una passeggiata il camaloga sperimenta insomma tutto il dolore che ha generato intorno a sé quelli che hanno trattato male gli animali che Dio li protegga non è una frase fatta e ora è molto penoso che cosa riconoscere questo è non poterlo correggere perché nell'aldilà non possiamo correggere nulla però viene accettato comunque perché è una nozione indispensabile per costruire un karma che nella vita successiva ci permetta di correggere certo non è un'accettazione in dolore assolutamente ora perché questa tendenza retrograda dall'ultima notte vissuta fino al momento in cui sostanzialmente è apparsa per la prima volta un barlume di coscienza terzo quarto anno di vita perché il sé spirituale che abbiamo detto non va mai oltre questo terzo quarto anno di vita si ferma lì ed è il nostro sé immortale che viaggia da vita in vita e ha portato con sé tutte le esperienze delle vite precedenti quando moriamo fa il contrario qui mentre siamo vivi irradia e all'interno dell'anima favorisce la costruzione dell'io temporaneo quando moriamo fa il contrario ci attira a lui e senza ritornare a lui noi non possiamo entrare nei mondi spirituali cioè praticamente senza ritornare a quando avevamo 3-4 anni e qui c'è la grande frase se non diventerete come bambini non potrete rientrare nei mondi spirituali esprime proprio questo ha altri significati purezza d'animo gentilezza sì 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 tutte le grandi verità non sono monotematiche ma in questo caso è proprio fedelissima se non si torna e si torna naturalmente è impossibile non farlo al momento della nascita o un po' più giù di lì cioè di quando eravamo neonati 3-4 anni non si può avere il contatto col mondo spirituale attraverso il sé spirituale che è la nostra unica porta per entrare poi nei mondi successivi fino al Devashan cioè il sé spirituale rappresenta il nostro contatto col mondo spirituale a quel punto il corpo fisico non c'è più l'anima si è completamente trasformata pulificata fino all'incontro col sé spirituale che c'è a quel punto c'è il sé spirituale e i frutti che l'anima gli ha portato ora approfondiremo ecco perché è essenziale che cosa che in questa fase i congiunti sopravvissuti si rendano conto che possono esercitare un aiuto fortissimo in che cosa perché l'anima si purifica attraversando per modo retrogrado la propria vita è perché si deve liberare di tutte le acquisizioni ottenute illegittimamente cioè grazie esclusivamente al corpo fisico facciamo un esempio che fa Rudolf Steiner la fame è una necessità vitale che percepiamo attraverso uno stimolo fisico quello è legittimo non ce ne dovremo mai liberare ma il buon gustaglio che si fa chilometri fa andare a mangiare la coda la vaccinara là in via gli amici poi gli dicono guarda che c'è quello là che fa l'astice e parte e va da quella la gola è considerata uno dei peccati capitali ma non dal punto di vista morale adesso spiegheremo anche perché ecco il buon gustaglio quando arriva in questa zona che cosa fa il desiderio la golosità non stava nel corpo fisico stava nel corpo astrale quindi ce l'ha immutata non ha più gli organi fisici per soddisfarla non ha più il palato e questo dice il dottore si manifesta come una sete ardente in un deserto in cui non sia disponibile acqua ora ci sono naturalmente finite sfumature perché la persona che muore sostanzialmente avendo solo lo stimolo della fame arriva in questa zona passa dritto e non succede proprio niente la persona che ha smaltito qui molto di tutto questo abbiamo detto in altre conferenze attraversa le varie fasi del mondo astrale come se non esistessero però ci sono due circostanze che non sono del tutto eliminabili e che attraversano sia pure in minima parte anche le persone più evolute la prima è rappresentata comunque dalla mancanza di un corpo fisico e dai sensi fisici ai quali un individuo si è abituato a 70-80 anni anzi è dovuto imparare a usarli bene la seconda è dovuta alla mancanza dell'intelletto perché l'intelletto nel momento in cui tutti i nostri pensieri dal terzo giorno della morte si dispendono nel cosmo noi in quel momento rimaniamo costituiti solo di corpo astrale io e la mancanza dell'intelletto naturalmente comporta un certo disagio qui tutto sempre secondo le sfumature di cui parlavamo prima però non del tutto eliminabile il dottore dice addirittura che la sensazione di mancanza del corpo fisico e dei sensi fisici si avverte come un'arsura dice come non un'arsura è una metafora esplicativa e la mancanza dell'intelletto invece si avverte come un gelo sono due sensazioni che nel Kamaloka possono essere pesanti naturalmente se uno sa che il proprio defunto era goloso allora il suo aiuto sarà ancora più indispensabile però non c'è nessuno che proprio non possa avere nemmeno qualche difficoltà in materia ora esiste una meditazione specifica proprio per aiutare i nostri defunti in questi momenti adesso la leggeremo però devo avvisare che è una di quelle meditazioni di natura sacrificale non l'avrei mai proposta tre anni fa quattro cinque due nemmai che vuol dire vuol dire che chi la recita con convinzione mette a disposizione le sue forze spirituali affinché il defunto superi queste due difficoltà lo fa veramente il dottore consiglia per chi ripeto intenda farlo di praticarla tre volte al giorno ben distanziate e ho sottolineato che intenda farlo perché naturalmente niente nulla è obbligatorio ma se qualcuno non è pronto a privarsi di forze spirituali sue per aiutare un suo caro defunto non la faccia lasci questa meditazione a qualcun altro non è obbligatorio non è un crimine se non la fa non è che per questo sarà un individuo disprezzabile però se la comincia a fare sappia che sta offrendo veramente le forze forze spirituali utilissime per queste due difficoltà del defunto perché perché lo fa con la consapevolezza di queste due realtà ora la meditazione è questa il mio amore non può essere altro perché come sappiamo ho amor omnia vicit agli involucri che ora ti avvolgono che non sono più né il corpo fisico né l'intelletto ma sono completamente diversi privi del corpo e dei sensi fisici privi dell'intelletto per rinfrescarne l'arsura mancanza dei sensi fisici per scaldarne il gelo mancanza dell'intelletto in sacrificio sintessi vedete c'è il punto interrogativo del dottor Steiner è un'esortazione questa per chi la fala per chi la recita la meditazione che offre veramente sue forze in sacrificio poi si rivolge di nuovo al defunto vivi portato dall'amore che ti mando io ricevendo in dono luce e sì perché queste due mancanze messe insieme producono una grossa oscurità della coscienza del defunto per difendersi per difendersi attutisce la propria coscienza diciamo proprio che si riciude in sé anche qui quando abbiamo un grosso dispiacere cerchiamo di stare solo e poi di farci una dormita di uscire dalla coscienza normale per non pensarci il defunto fa lo stesso rientra nell'oscurità perché di là dove non c'è coscienza c'è oscurità ecco l'esortazione è proprio questa ricevendo in dono luce verso l'alto un altro punto interrogativo questo pure sembra questo ho riflettuto a lungo ma penso di poter dire che si completa l'altra esortazione verso chi recita perché il defunto ci va da solo verso l'alto insomma non è questo il suo problema quindi la rileggo una volta per chi volesse prendere appunti gli altri abbiano pazienza il mio amore agli involucri che ora ti avvolgono per rinfrescarne l'arsura per scaldarne il gelo in sacrificio sintessi punto interrogativo punto esclamativo vivi portato dall'amore ricevendo in dono luce verso l'alto punto esclamativo è chiaro che se si tratta di un essere femminile qui vivi portata è chiaro questa modifica è indispensabile pausa sindacale dunque a questo punto il Kamaloka è molto avviato e noi sappiamo che finché siamo nel Kamaloka ci aspandiamo verso l'orbita lunare la sfera lunare dunque viene attraversata interamente dal defunto vedremo poi ancora una volta meglio questo che significa che cosa succede in questa sfera lunare importantissimo c'è un evento clamoroso noi incontriamo i nostri antichi maestri quando l'umanità ha cominciato il suo percorso soprattutto nel periodo lemurico atlantiano atlantideo mi piace di più non era assolutamente in grado di gestirsi da sola non sembra che lo sia nemmeno oggi se dobbiamo essere sinceri anzi sembrerebbe proprio il contrario e fu necessaria la presenza di alte entità che si incarnarono solo fino a livello eterico non fisicamente sufficiente però per ispirare le guide pratiche le guide incarnate delle comunità piuttosto piccole inizialmente attraverso le quali poi l'umanità si è sviluppata in popoli etnie eccetera eccetera queste guide sono state indispensabili e hanno lavorato moltissimo e siccome hanno lavorato a livello eterico sono dei grandi conoscitori del pensiero umano perché il pensiero si sviluppa a livello eterico quando quando hanno finito questo loro compito importantissimo non potendolo più continuare in quel modo perché nell'umanità erano subentrate altre forze le forze dell'io della piena diciamo così manifestazione dell'io che sta un processo molto molto graduale dalla Lemuria fino al momento della resurrezione e si sono ritirate nella sfera lunare che non significa la palletta che gira intorno a noi ma significa quello spazio cosmico delimitato proprio dall'orbita lunare dei 28 giorni e da lì svolgono questo compito di accogliere le anime dei defunti partecipano a tutto il nostro esame eredrogrado e ahimè purtroppo ci danno la pagella alla fine danno un giudizio non direi nemmeno severissimo nel comportamento di un essere sulla terra però nemmeno indulgente giusto giusto ma insomma come dice Mobis nell'ultima valutazione dell'Italia outlook positivo la cosa misteriosa di tutto questo qual è già tutto questo è abbastanza misterioso è che questo giudizio viene conservato nella sfera lunare finché noi dopo aver percorso tutto il cosmo aver raggiunto tutte le altre sfere per incarnarci ripassiamo dalla luna questa volta senza nessun effetto tranne quello che questo giudizio viene inserito nel nostro corpo astrale per cui noi ci reincarniamo col giudizio della nostra incarnazione precedente quindi vedete che quando all'inizio ho detto che avremmo affontato dei argomenti quasi inverosimili no sicuramente inverosimili per la coscienza comune non sono andato molto lontano ora che cosa avviene di sgradevole nella fase lunare oddio non deve essere per forza sgradevole questo Kamaloka ripeto si è affrontato da una persona morale che ha sviluppato una religiosità che si è comportato bene già non è una tragedia se poi questa persona veramente ha messo diciamo facciamo un po' di consigli per gli acquisti che mi si perdonino se la persona la cattedrale l'ha costruita sul serio insomma il Kamaloka potrebbe anche essere un grande riconoscimento di meriti abbiamo detto che se da uno schiaffo a qualcuno sente il dolore della persona e se ha fatto una buona azione se ha dato una carezza se ha aiutato qualcuno che soffriva gli torna tutto questo nel Kamaloka quindi non ci sono questi limiti perché il Kamaloka viene sempre visto come qualcosa no, no, no perché? perché? non è detto si chiama viaggio nella sfera dei desideri e se i desideri sono stati nobili alti e spuri la persona può passare un Kamaloka gratificante lo deve passare perché deve andare al sé spirituale l'abbiamo detto può anche essere molto accorciato però adesso abituiamoci come sono stato educato io a pensare sempre all'ipotesi più dolorosa ammettiamo invece che il personaggio sia costretto ad abbandonare molto di sé nel Kamaloka questo perché? perché c'è una convinzione ho visto anche in filosofia parecchi filosofi sembrano essere quasi orientati dalla convinzione che l'io vivendo acquisisca delle capacità delle facoltà o le perda quasi come se si tratti di qualcosa di accessorio esterno cioè attraversa un periodo positivo e prende una bella borsa piena di saggezza poi ne attraversa uno negativo e la perde no 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 su questo bisogna essere chiarissimi l'io diventa quello con cui entra in contatto non ci sono dubbi su questo voi andate a sentire vabbè deformazione professionale requiem di Brahms requiem tedesco di Brahms magari anche un po' preparati quando uscite non siete più la stessa persona assolutamente quello ha il potenziale di cambiarvi sono altre manifestazioni musicali che vi cambiano pure in altre direzioni ci sono stati molti studi su questo non me lo so inventato io qualunque cosa facciamo ci cambia chi ascolta questa conferenza dopo averla ascoltata non è più la stessa persona di prima spero che non sia peggio è impossibile evitare questa trasmutazione continua questo che significa che qualunque comportamento nobile ha comportato una modifica del nostro io di quel tipo l'io è diventato più nobile passando nel Kamaloka si conserva tutta questa nobiltà arriva l'incontro con il sé spirituale praticamente quasi intatto e il sé spirituale ci deve introdurre nei mondi spirituali dove non è possibile imperfezione di origine terrena non è proprio ammessa per cui l'individuo che purtroppo ha identificato il proprio sé con una lunga serie di marachelle ogni volta che incontra uno delle quattro sfere principali in cui si articola il Kamaloka qui devo rimandare per forza la conferenza precedente del settembre 2016 vedete per tornare sullo stesso argomento approfondire ci abbiamo messo sette anni professore una lumaga e una tartaruga messi insieme sono più veloci di lei vero l'individuo che incontri queste varie zone di depurazione subisce delle mutilazioni cioè la parte di lui che è diventata quell'errore viene letteralmente eliminata in un caso clamoroso si arriva all'incontro col sé spirituale conservando una minima porzione di quello che si era con una massima disperazione del sé stesso perché il sé spirituale cresce con quello che gli viene portato in questo cammino retrogrado come esperienze terrene i famosi venti talenti si aspetta almeno di riavere i venti talenti questo naturalmente non ha bisogno di colmenti le mutilazioni sono dolorose quando le sagrestrutture dicono se quel dito ti farà peccare taglia se quella mano ti farà peccare meglio che te la tagli a noi questo sembra una cosa orrenda infatti nessuno si tagli la mano l'abbiamo superata quella fase non è necessario però sostanzialmente voleva dire questo se devi commettere un omicidio ammazzare qualcuno dopo sei diventato un omicida rischi nell'aldilà di sparire completamente poi ci sono le attenuanti tante cose non so non voglio rinagare la mia laurea in legge e ora questo poi porta che cosa come conseguenza che il Kamalogo alla fine si conclude si conclude quando ci incontriamo col sé spirituale ed è una fase della nostra vita nell'aldilà importantissima perché perché si è stato eliminato tutto quello che andava eliminato si sono incontrate tutte le persone a cui abbiamo fatto del bene o abbiamo fatto del male si esce dal Kamaloga col progetto futuro sappiamo già come per grandi linee come dovremo impostare il karma della vita successiva per riparare tutto quello che va corretto e con quali persone soprattutto lo dovremo fare questo è importantissimo e sarebbe impossibile senza questi abbastanza lungo periodo diciamo 25 anni normalmente molto ridotto se muore una persona molto evoluta spiritualmente dopodiché che succede? finito il Kamaloga comincia veramente un mondo nuovo perché? perché da quel momento in poi tutto il mondo in cui noi andremo a vivere nell'aldilà ce lo dobbiamo costruire da noi noi qui nasciamo sulla Terra tutto già è fatto la Terra esiste gli alberi esistono il cibo è pronto tutto è tutto fatto nell'aldilà da questo punto in poi comincia esattamente il contrario tutto il mondo in cui dobbiamo vivere ce lo dobbiamo costruire la luce che dobbiamo proiettare ce la dobbiamo costruire noi e proiettarla diventiamo veramente liberi come non lo siamo stati sulla Terra perché non c'è niente che ci è dato tutto dobbiamo dare e fare la cosa comporta naturalmente un cambio di passo non indifferente è chiaro che qualcuno che sia uscito dal Kamaloga e abbia errorato il sé spirituale riccamente mette in condizione il sé spirituale che da questo momento è lui che cammina di affrontare questa nuova difficoltà da Signore c'ha molte frecce al suo arco non ha problemi in costruire cioè non ha problemi senza problemi non c'è vita e la stessa regola vale nell'aldilà comunque può affrontare la difficoltà con una buona dose di riserve preziose e la prima sfera in cui ci proiettiamo è quella di Mercurio ricordando sempre che nel corso dei tempi le denominazioni di Mercurio e Venere nella concezione astronomica ufficiale sono state capovolte per l'astronomia il pianeta più vicino al Sole si chiama Mercurio noi lo chiamiamo Venere e quello prima Mercurio quindi il primo pianeta in cui entriamo è la sfera di Mercurio ancora una volta invito a pazientare che cosa significa questo spostamento nello spazio la sfera di Mercurio ha già una caratteristica piuttosto peculiare se ci si arriva senza aver provato sincera compassione nella vita si viene ignorati le entità che vivono su Mercurio ci ignorano dice ma che vuol dire aver provato beh non c'è nessuno che almeno un po' di compassione non l'abbia provata nella vita per qualcuno che soffriva per un animale per una notizia qua se uno dovesse aprire questo serbatoio non credo che nessuno di noi c'è una abbastanza di compassione per tutte le notizie terrificanti che ci arrivano la solitudine la esamineremo fra poco non è piacevole nei mondi spirituali e c'è delle conseguenze serie noi anche qui si soffre di solitudine quando si vuole infliggere una pena accessoria piuttosto severa e anche per altri motivi pericolosità violenza del detenuto si impone anche l'isolamento l'isolamento è pesante è pesante anche lì può durare 50-60 anni come niente ora anche se il tempo di là è diverso arriverà il suo momento c'è una caratteristica invece fondamentale delle entità di Mercurio qual è? hanno un compito debbono liberare l'essere umano arrivato fino a quel punto da qualunque conseguenza delle malattie avute sulla terra non c'è una malattia che non lasci uno strascico nel corpo astrale e nell'io uno strascico l'io è quasi intoccabile però si può immaginare che uno che abbia una malattia tremenda con operazioni cicli tremendi l'io rimanga indifferente no anche se guarisce poi si porta dietro una zavorra psichica che deve essere eliminata prima di arrivare alla sfera solare e le entità di Mercurio lo fanno in tutta la tradizione antica Mercurio le entità mercuriali sono sempre associate alla medicina il medico antico non si laureava frequentava un corso iniziatico che lo metteva in contatto in grado di contattare le entità che vivono su Mercurio le quali gli suggerivano di volta in volta proprio le terapie cioè il famoso sonno nel tempio non ci possiamo approfondire ora siamo già un po' in là e questa naturalmente è una cosa importantissima e ci fa capire che cosa come per arrivare al centro del nostro viaggio nell'aldilà dove si fermerà questa conferenza perché purtroppo ahimè ce ne dovrà essere dei permettendo una conclusiva ancora è tutto ciò che non è perfettamente puro e corretto deve essere eliminato il gradino successivo è entrare nella sfera di Venere dove si verifica qualcosa di decisivo clamoroso tutto ciò che si poteva ricollegare alla saggezza esce di campo si dice che Venere è il pianeta dell'amore verissimo su Venere conta solo tutto ciò che rientra nella sfera dell'amore che comincia dall'affetto dalla simpatia e arriva fino a quello di cui parla Dante che muove il sole e le altre stelle anche qui c'è una clausola la persona che non abbia sviluppato alcuna forma di religiosità guardate non voglio essere né bacchettone né bigotto alcuna forma di religiosità viene ignorato e parte si va anche qui un bel po' di solitudine perché è così grave questa solitudine beh intanto si può già capire che la solitudine per una persona sana non è una situazione gradevole ci sono i momenti in cui ne abbiamo assolutamente bisogno dobbiamo ritrovare noi stessi mettere a posto le idee riprendere posizione vabbè la persona normale è una persona sociale massimo esempio di questo è l'autobiografia di Rudolf Steiner è sorprendente la socialità di quell'uomo che poteva sicuramente vivere da solo in assoluta autosufficienza no una persona sana normale è una persona che vuole integrarsi con gli altri che vuole comunicare che vuole interagire ma c'è un corollario peggiore la solitudine dei mondi spirituali impedisce di costruire un buon corpo astrale per l'incarnazione successiva e poi quando vedete intorno a tutte queste persone che hanno queste forme semi semi mentali che stanno aumentando sì stanno aumentando lo sappiamo tutti oppure difficili da diagnosticare a volte sono ibride questi sono tutti i corpi astrali certo poi c'è l'educazione l'ereditarietà per carità il corpo animico si eredita e quindi si possono ereditare anche le turbe però 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 questo è andato avanti progressivamente man mano che il materialismo prendeva il posto di tante tradizioni che comunque comunque tenevano un po' la barca in equilibrio e finita la sfera di Venere finita la sfera di Venere che cosa succede? che entriamo nella sfera solare ora quello che c'è di assolutamente clamoroso fino a questo punto che cos'è? è che in tutto questo lungo percorso e in quello che avverrà anche dopo lo sguardo resta fisso sulla Terra l'ho detta all'inizio ci espandiamo come circonferenza e guardiamo il centro qui siamo centro e guardiamo la circonferenza là siamo circonferenza e guardiamo il centro questo significa per esempio che il contatto con i propri cari non si perde mai mai perché la direzione di forza verso il centro rimane sempre è una bella differenza perché noi qui sostanzialmente naturalmente parlando dubitiamo se esistono mondi al di là se ci sia qualcosa oltre la morte fisica se esistono veramente queste dimensioni di cui parla Dante invece nell'al di là la Terra è una presenza continua anzi è così continua nel suo fatto nel suo divinuto nella sua concretezza che a un certo punto lo vedremo è persino disturbante gradualmente impariamo che cosa impariamo a diventare esseri individuali nel mondo sovrasensibile cioè esseri sovrasensibili dotati di autocoscienza individuale che non è una cosa facilissima pensate la difficoltà che ci mette qui il bambino per diventare un individuo minimamente autocosciente nei primi sette anni si costruisce solo il corpo fisico da sette a quattordici cambio dei denti il corpo eterico da poi da quattordici a ventuno il corpo astrale da ventuno comincia la costruzione dell'io e poi non è così precisa perché si deve articolare in anima senziente nazionale cosciente insomma l'individuo veramente maturo maturo ha 42 anni da 35 comincia già a esserlo abbastanza ma di là è lo stesso e in questo percorso sovrasensibile ritorna ancora una volta centrale quella figura del Cristo di cui abbiamo parlato io sono l'io sono perché quando arriviamo lì c'è solo quello non c'è più il corpo astrale non c'è più il corpo eterico non c'è più il corpo fisico e che è rimasto? è rimasto il sé spirituale con l'io che si è portato dietro dall'ultima incarnazione se nell'ultima incarnazione la persona ha raggiunto una pienezza spirituale totale quella si è aggregata al corpo al sé spirituale è rimasta intatta continua a viaggiare la perfetta eternità della coscienza ma a quel punto però siamo esclusivamente un'entità spirituale e che cos'è un'entità spirituale nel mondo spirituale? è un pensiero solo che è una sostanza pensiero e la differenza tra il pensiero nel mondo spirituale e il pensiero qui è la stessa che c'è tra me e la mia ombra quando cammino il pensiero qui rispetto al pensiero spirituale ha la stessa differenza della mia ombra rispetto a me ora a quel punto evidentemente chi l'ha trovato questo rapporto col portatore cosmico dell'io è molto facilitato e che significa che conserva la coscienza e continua ad evolversi può aspirare a conoscenze superiori a evoluzione superiore perché conserva la coscienza se qualcuno perde la coscienza molto presto il cosmo quasi quasi non perde tempo né energie se rincarnerà subito uno potrebbe dire meglio eh no 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 rincarnarsi in modo raffazzonato non ben preparato significa non poter scegliere famiglia popolo situazione no no ci vuole una probabilità su un miliardo che vada a finire bene cioè che vada a finire male le incarnazioni premature sono sempre molto rischiose come le nascite premature in certi casi naturalmente questa situazione è indispensabile perché nel cosmo non ci sono regole ci sono solo casi individuali noi diciamo sempre ci vogliono 7-8 secoli tra un'incarnazione e un'altra sì Nicolò Cusano è morto e dopo non voglio dire una sciocchezza pochi anni 10-20 non è rinato come Copernico adesso andate su Wikipedia lì e controllate subito gli anni pochi anni pochissimi come c'è possibile eh sì evidentemente raggiunto un livello di quel tipo Nicolò Cusano è uno che non è ben apprezzato quanto meriterebbe secondo me c'è un'università per fortuna che fa un po' di pubblicità a se stessa però boh mi sembra poco poco apprezzato una personalità altissima era così alto che non ce n'ha avuto bisogno di tutto questo viaggio dopo pochi anni di assestamento è rinato e come è rinato come Copernico un altro bel gradino più in su quindi stiamo descrivendo i processi mediani cioè le caratteristiche di un viaggio curriculare di là ma le eccezioni sono sempre possibili ora qui succede qualcosa di decisivo soprattutto dopo il Kamaloka ma già nel Kamaloka già nel Kamaloka si verifica un fenomeno clavoroso e qual è? che noi trasferiamo tutte le nostre esperienze del re al cosmo e uno potrebbe dire ma come non le portavamo al sé spirituale non facciamo tutto questo viaggio per andarla arricchire al sé spirituale portiamo i frutti delle nostre esperienze sì non è facilissimo da distinguere ci proviamo con una metafora il dottore fa l'esempio della scrittura di tutta la fatica che impariamo per imparare per maneggiare la matita e poi alla fine come conseguenza sappiamo scrivere questo è un caso che personalmente mi è molto facile perché non mi ricordo se era un preasilo una primina era un istituto di suore donne meravigliose creature proprio elevatissime un ricordo magnifico ma hanno fatto riempire i quaderni di stanghetti verticali orizzontali cerchietti quadretti triangoli zig zag ma quaderni alla fine la mano ha imparato a articolare la matita ha cominciato a scrivere le lettere i numeri eccetera eccetera ecco il frutto di tutti quei quaderni è stata la capacità di scrivere la capacità di scrivere la trasferiamo al sé spirituale tutte le esperienze fatte nelle stanghette nei quaderni diciamo così preparatori quelle vanno nel cosmo come alimento delle gerarchie qui noi naturalmente adesso stiamo proprio esasperando un astronomo che avesse avuto la pessima idea di seguire questa conferenza ma il sole la terra gira i pianeti e come gira da solo ci sono entità che le fanno girare abbiamo spiegato in tante conferenze quelle che organizzano le orbite in modo che rimangano distanziate ma non troppo quelle che devono correlare il sistema solare con gli altri sistema solare tutto questo immenso lavoro delle gerarchie necessita cibo necessita di alimentazione e qual è l'alimentazione? Sono le esperienze che noi facciamo sulla terra le esperienze dell'uomo sulla terra sono il cibo per le gerarchie che mantengono in vita coordinate e ordinate il sistema i frutti di queste esperienze vanno al sé spirituale che così arricchito prosegue l'evoluzione personale nell'aldilà e nella prossima incarnazione questo ci ricorda ancora una volta la stupidità clamorosa di questa concezione dilagante per cui la terra è un pianetino inutile nell'universo e l'uomo ancora più inutile perché sta su sta scheggia cosmica e il nostro sistema senza l'attività umana sulla terra non potrebbe funzionare naturalmente c'è anche qui un discorso di qualità se gli mandiamo attività positiva nobile altruistica costruttiva anche in campi non necessariamente mistici scienza per carità medicina tutto quello che aiuta l'essere umano in qualunque campo è cibo eccellente per le gerarchie gliene stiamo mandando tanto di veleno purtroppo ma ci sono anche dei compensi invisibili perché il bene non fa rumore ma ce n'è ancora tanto per fortuna ora siamo arrivati a questa sfera solare e che succede su questa sfera solare comincia un particolarissimo interesse delle gerarchie per gli esseri che sono arrivati dalla terra questo interessamento è determinante per il proseguimento del viaggio e naturalmente su che cosa si basa su quello che ho appena detto se il sé spirituale arriva con una preponderanza di frutti positivi viene molto attenzionato e se no purtroppo no se la vita terrena lo ha ricoperto di male cose non se la passa tanto bene e c'è anche una differente specificità delle tre gerarchie in questo attenzionamento questo è un po' sempre presente in tutto il viaggio cosmico ma qui è particolarmente evidente la terza gerarchia si occupa soprattutto dei problemi interiori a quel punto perché anche l'individuo a quel punto ha un mondo esterno e un mondo esterno la pelle spirituale non la perdiamo mai la differenza tra noi e il mondo se l'individuo ha conservato l'autocoscienza soprattutto secondo quell'impulso del logo di cui ho parlato c'è un mondo interiore e un mondo esteriore vive parte del tempo dentro di sé e parte fuori come noi qui è una vita di veglia e di sonno e la terza gerarchia si occupa soprattutto dei problemi interni la seconda dei nostri rapporti col mondo che a quel momento intorno a noi è diventato molto ricco perché ci sono tutte le anime dei defunti che abbiamo conosciuto quelle che conosciamo per via indiretta ABC come ho spiegato attraverso di loro tutte le entità che non è poco i mondi elementari e qualunque forma di esistenza sovrasensibile la prima gerarchia invece ha un compito molto specifico la prima gerarchia è quella che aiuta sempre lì o anche qui sulla terra e continua a farlo in tutto il viaggio nell'aldilà però fa una cosa particolarissima e determinante prefigura il nostro karma successivo perché a quel punto gli elementi sono proprio tutti sul tavolo si sa come dovrà essere questo karma il resto del viaggio purtroppo lo devo rinviare sarà una descrizione di come ce le procuriamo le forze poi per realizzarlo il karma ma la prima gerarchia non lo configura teoricamente lo vive questa è una cosa difficilissima da intendere ma il nostro destino sulla terra è stato prima vissuto dalle gerarchie nei mondi spirituali e noi lo abbiamo visto sostanzialmente parlando ogni individuo un po' si ribella un po' di più ma sostanzialmente il proprio destino noi lo accettiamo sono poche le persone che proprio si ribellano in modo clamoroso magari si accettano con tristezza con melanconia ma c'è qualcosa dentro di noi in fondo che ci dice che questa vita che ci capita la dobbiamo accogliere se non fosse così non ci sarebbe nessun ordine sulla terra perché non ci sarebbe nessun sistema neppure più repressivo in grado in grado di mantenere una vita sociale decente e questo avviene perché noi vediamo questo karma mentre le gerarchie della prima proprio lo vivono davanti a noi vedete che all'inizio ho detto che avremmo parlato di cose assolutamente misteriosissime però è proprio quello che succede e arrivati in questa sfera solare superati tutti questi esami di ammissione in che cosa consiste l'attività nel costruire il prossimo corpo e il prossimo karma che è una cosa complicatissima perché noi per esempio dobbiamo partecipare con delle gerarchie specifiche alla costruzione del nostro futuro cervello cioè dell'archetipo spirituale immaginate un immenso ufficio d'architettura dove specialmente con i mezzi moderni gli architetti possono fare cose incredibili non lo so la stampante 3D quello che vi pare venga proiettato il progetto perfetto di come sarà il nostro cervello questo richiede un'elaborazione molto lunga a meno che non siamo di fronte a personalità così evolute come il caso che ho detto prima che quelle si portano il corpo eterico intatto nell'incarnazione successiva non lo disperdono nel cosmo se avessimo delle fotografie precise vedremmo che il viso di Nicolò Cusano è quasi identico a quello di Copernico non ce l'abbiamo naturalmente ora questo lavoro di costruzione del prossimo corpo il prossimo karma è immenso perché noi non vediamo solo il nostro corpo costruito lo vediamo di tutte le anime con le quali ci incarneremo è un lavoro quasi altruistico dal punto di vista contemplativo per quante cose possiamo fare sulla terra di grandiose ma mai si arriva a questo livello di partecipare a un divenire immenso che coinvolge tutte le entità del cosmo in genere anche dal punto di vista di una definizione filosofica il divenire è più gratificante del divenuto una famiglia sana bambini sani i genitori godono moltissimo di vedere il bambino che cresce comincia a camminare dice le prime cose è una cosa un divenire che dà molta felicità se tutto va bene naturalmente e anche se c'è qualche ostacolo ogni tanto ecco il divenire in quel momento non è qualcosa di esterno a noi ci partecipiamo completamente e quindi realizziamo che cosa quella famosa definizione presente in quasi tutte le tradizioni che dice che il corpo umano è il tempio degli dei sì perché tutte le gerarchie collaborano con noi per costruire il nuovo corpo umano che si dovrà reincarnare tu come avverrà tutto questo purtroppo non lo posso spiegare oggi dovrete quei pochi che rimarranno sopportare un'altra conferenza e questo è qualcosa di così grandioso perché ci mette in contatto con una verità con la quale concludiamo noi sappiamo che quando parliamo del Dio Padre di che cosa parliamo? della sostanza del substrato di tutto l'esistente il Dio Padre è quell'entità che Zaratustra definisce in un modo meraviglioso il tempo increato che scorre generante e non generato che ha scelto non di creare un mondo accanto a sé ma di crearlo effondendosi completamente nel mondo che creava quindi noi possiamo veramente dire che partecipiamo alla creazione del nostro nuovo corpo continuamente appoggiato su questa immensa realtà divina ed ecco perché questa è la fase in cui vale la prima frase Ex Deo Nashimur se vuoi conoscere i libri di cui parla questo video clicca sull'icona che trovi a sinistra dello schermo visualizza i prodotti e si aprirà e si aprirà il menu sempre aggiornato e si aprirà il